Ma guardi, io mi riconosco in una cultura politica, in un programma più che in una corrente o in un'area. La mia battaglia è stata e sarà per portare tutto il PD su una rotta che considero adeguata ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Non mi interessa costruire una nicchia e negoziare con il segretario protempore dei posti da qualche parte. Mi interessa riorientare e costruire una cultura politica progressista forte nel PD, che metta al centro la persona che lavora, che abbia autonomia dai cascami del liberismo che tanti danni hanno prodotto, che guardi all'eguaglianza come a una variabile decisiva da affrontare. Mi interessa questo percorso. Ovviamente su questo percorso ci sono interlocutori più sensibili di altri. Quindi guardo alle forze che Civati ha saputo mobilitare, ovviamente a partire da quelle che si raccolgono intorno a Cuperlo, che siano tranquilli coloro che fanno allusioni interessate. Cuperlo rimane il leader dell'area che ha saputo raccogliere, anche perché Cuperlo ha raccolto il consenso di mezzo milione di persone. In questo percorso guardiamo con attenzione ovviamente anche all'evoluzione a CEL.